Bussarsizio, siamo fuori dal centro psicosociale dell'azienda ospedaliera dove stanotte c'è stata una spaccata. Dei malviventi si sono introdotti negli uffici dove ci sono documenti, soprattutto medicinali, ma non è stato rubato niente. Stamattina la chiamata, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di via Molini Marzoli che si stanno occupando delle indagini insieme alla polizia scientifica del commissariato che ha effettuato i rilievi. Da una prima spaccata alla prima spaccata, i balordi si sono introdotti, sono andati negli uffici dei medici dove appunto hanno aperto cassetti, armadi e spaccato un po' di tutto senza prelevare niente, neppure i medicinali come metadone o altri farmaci per la cura delle dipendenze. Grazie a tutti.